Dopo giorni di temperatura in discesa, tempo instabile e addirittura i fiocchi bianchi in montagna con i comaschi costretti a tirare fuori di nuovo dagli armadi le giacche pesanti e in alcuni casi a riaccendere i riscaldamenti, tra domani e dopodomani il termometro tornerà a risalire garantendo un clima primaverile. A confermarlo gli esperti di Meteo Svizzera che in ogni caso chiariscono come gli sbalzi termici dell'ultima settimana siano tipici del periodo. Le temperature al di sotto della media stagionale sono state provocate da correnti di origine settentrionale che hanno fatto affluire aria di origine polare, spiega Marco Gaia, meteorologo di Meteo Svizzera. L'alternanza di masse di aria fredda e calda non deve essere vista però come qualcosa di anomalo, sarebbe strano il contrario. Se facciamo il confronto con lo stesso periodo del 2015 ci sembra che faccia molto più freddo, ma in realtà chiarisce Gaia l'eccezione era quella dello scorso anno. Tornando all'ultimo periodo, in montagna il calo ha toccato anche i 10 gradi. In pianura la variazione è stata nell'ordine dei 7-8, aggiunge. Basti pensare, per fare un esempio, che a Stabio il 22 aprile si registravano 21,7 gradi di massima e il 25 aprile 14,8. Ieri, primo maggio, si è rivista addirittura la neve su alcune cime, basta sollevare lo sguardo per accorgersene. La neve fa parte della variabilità climatica della regione prealpina nelle stagioni intermedie, dice ancora Marco Gaia, che rassicura sul tempo dei prossimi giorni. Fino a sabato sarà soleggiato e il termometro tornerà a salire fino a 20-22 gradi. Domenica si rivedranno nuvole e pioggia. Non c'è però da preoccuparsi, del resto siamo solo al 2 maggio. L'instabilità, conclude l'esperto, ci accompagnerà ancora per un mese e mezzo.